Salve a tutti, io sono TheLongamer e bentornati su The Last of Us parte 1. Riprende la fuga di Ellie nella città dei cannibali, ma Joel ce la farà ad arrivare in tempo? Preparatevi per un altro episodio carico di grandi emozioni, con decine di infetti pronti a sbranarci la faccia e con un grande tradimento in agguato. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Ellie è riuscita magistralmente a sfuggire alle grinfie di David, che a quanto pare sa voleva mangiare. Anzi, in teoria David dovrebbe essere rimasto contagiato da Ellie, pertanto ci schiatterà a stretto giro. Allora, vediamo se riusciamo ad evitare un po' di scontri, che non sarebbe male. Cerchiamo di stare bassi, la tormenta dovrebbe coprire i nostri movimenti, se siamo fortunati. Maronne, sono dovunque questi tizi. Porca boia! Deve fare un freddo bestia qua fuori. Signore, me la presterebbe la sua pistola quando ha un secondo? Avanti, sia con ogni animo gentile! Ecco qua, vara, vara, vara! Ok, dovrebbe anche coprire un po' il mio rumore. Ellie, Ellie! Prendi il revolver del tizio. Tre colpi? Meglio che nulla! Stai giù ciccia ma contento? Qualcuno stava riuscendo a intravedermi contro ogni aspettativa. Vai così, ottimo. Hanno lanciato l'allarme i bastardi, quindi l'intera città adesso ci sta dando la caccia. Casino! No! C'è nessuno? Sono una tenera, dossile bambina del villaggio che si è spersa? Oh, non scenderò da qua, non scenderò da qua. Boni! State, boni! Non si può spuntare le spalle. Non sa farmi schiamare. C'è gente dovunque. Sono andato in direzione sbagliata da nazione. Ok, il tizio sta scendendolo, intravedo laggiù. Vai, Ellie! Vai, Ellie! È lì più rapida e che cocchio! Non c'è tutto il giorno. Non possiamo entrare da nessuna parte, è tutto sbarrato. Ellie! Buttati lì e tanti saluti. Tutto ok? Tutto bene, tutto bene, grazie. Saluti a casa. Ok, l'altro tizio mi sta dando le spalle per fietto. O peggiore dell'ipotesi, abbiamo il mattoncino che ci protegge. Che cosa buona e tanto giusta. Vai! Ma come fa sta gente a vivere in culolandia? Ma ne vale veramente la pena, fioi? Sto evitando uno sfaccello di scontri, che è qualcosa di assurdo. Ci volevo provare da un po' di tempo, non pensavo fosse possibile. Oh, 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 oh. E invece, contro ogni aspettativa... Ok, dimmi che ci siamo. Ma no, non mordo nessuno. Voglio dire, rischiamo di trovarci in un vero casino. Siamo già nel casino e dobbiamo risolverlo. Restate concentrati, troviamo... Oh, c'è una giraffina, io la giraffina la voglio. Sono ancora molto disarmato, quello è un bel problema? La porca di quella suprema porca. Ok, se... Oh, porre del cane. Come li frego? A coltellalo, a coltellalo, a coltellalo, via! A coltellalo, via! Preliatti, preliatti, preliatti! Presi! Non m'hanno visto! Oh mio Dio, non so come sia possibile che non m'abbiano visto. Stai giù, stai giù, Ellie! Ha ha ha! Incredibile, ha funzionato meglio del previsto. Ricarica, 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 Ellie, ricarica, Ellie. Perfetto. Dimmi che sono vicino all'uscita dal suo posto. E abbiamo ancora la bottiglia in caso di necessità. Perfetto, come lo... Non ho il mattone! Controllala giù. Qui, no, 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 no. Non hai visto nulla, fatti i cavolacci tuoi. Ok, il tizio adesso mi dà le spalle. E giustamente per parcondicio io gli do il coltello. Ok. Ottimo, ottimo, ottimo. Sì, dove sono? Non hai visto nulla, non hai visto nulla. Porca boia, il problema è che pure io non vedo niente. Paielli, Paielli marrone con la vibrazione del controller PS5. È fantastico e ancora più realistico. Sembra una boiata, ma ti senti come la neve che sbatte addosso? Ti va a dico che questo gioco in VR sarebbe fantastico. Ellie, io non ho la più palida idea, potremmo anche aver fatto un giro in tondo, voglio essere onesto con te. Com'è possibile davvero che l'abbiamo fatta in stealth? Oh, oh, qualcuno ha trovato corpi. Maronne. Vabbè. Oh, possiamo entrare qua dentro. Ok, ok, forse è un luogo in cui ci possiamo riparare per essere un pochettino più al sicuro. Mamma mia, Ellie, tutto bene? Ragazzi, sei tipo ricoperta di neve. Oh mio Dio. Ok, vediamo se riusciamo a trovare un po' di scorte, perché avendo saltato la maggior parte dei combattimenti, abbiamo lasciato indietro anche tante risorse. Uh, io un kit medico, lo vorrei. Qui là, ma che bel posticino, un po' abbandonato. Cannibali, parco cane, dove mi cucinate voi le carni e tutte cose? Qua ci puoi ospitare una marea di famiglie, è che è difficile da riscaldare proprio alla luce della grandezza del posto. Ma una bella insalata con dita? Porco cane, potevate anche lasciarmela. Ellie, lascia stare, non diamoci al cannibalismo, che non mi pare il caso. Ho capito che siamo affamati, ma non così tanto affamati. Allora, vediamo di raggiungere l'uscita. Non ho trovato quasi niente in sto posto. Prendiamo una lanterna, Ellie, perché non si vede praticamente nulla. Ok, pronto a tornare là fuori. Uh, pezzo di erba! No, 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 ho la mia pistola, bastardo, ho la mia... Oh, Ellie. Come hai fatto? Come ho fatto cosa? Ehm, preoccupati dell'incendio, ciccio. Non importa. Ellie, leviamoci di qua. Leviamoci di qua molto rapidamente. Vuoi uscire? No, 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 non voglio uscire con te, sei troppo vecchio, mi fai schifo. Ok, ehm, cosa mi resta praticamente? Ah, i medikit e il coltello, si è preso pure la bottiglia al bastardo. Perché non sei infetta? No! Nessuna persona infetta si danna così per rimanere in vita. Non ne hai visto nulla, non ne hai visto niente, non ne hai visto niente. Uh, abbiamo richiesto tantissimo. Ah, lui le chiavi, ottimo. Devo ammetterlo. Mi hai fregato prima. Per un istante, hai messo in crisi la mia fede. Ecco, mettiamo in crisi anche la tua giugulare, che non sarebbe male. Ok, l'ho coltellato. Eccolo vivo! Oh, 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 bastardo. Ciccio, ti stai dissanguando giusto un attimino? No, no, oh, oh, oh. Corrielli, corrielli, corri popolo, ci fai, vieni qua, 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 vieni qua. Ok. Ah, i cocci fanno rumore, i cocci fanno tanto, tanto rumore, aiuto, aiuto, ma che fa, mi spara anche? Pezzo di erba. Ok, ok, facciamogli perdere le tracce, no, ok, le tracce le avvite. Au, un proiettile su una spalla fa male, ok, c'era un mandibito di me. Lì, cocci, evita i cocci, ragazza mia. Ok, vai, basta, vai, basta. Eccolo laggiù, perfetto. Ciccio, c'è un incendio che si propaga male. Ma non mi piace la carne umana, porta pazienza. Non volermene, sei una persona veramente tanto simpatica, eh. Ma che persona magnanima. Ma che, vai, 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 vai. Una coltella da molto, aiuto, e fermati porco cane. Ah, aiuto, corri, 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 via di qua, via di qua, via di qua, via di qua, via di qua. Ah, me sto a cacca sotto. Ok. No, no, direi che sa dove sono. Direi che sa tanto dove sono. Aiuto, dati una calmata, ciccio. Porco cane, vai a mangiare qualcun altro. Ellie, diamoci un taglio. Eh, io posso darci una coltellata più che un taglio, ma vabbè, dettagli. Eh, sì, però si sta sempre più propagando quell'incendio. Ellie, sfonda una finestra e vattene. Perché non riesco più a rilevarlo? Eh, signori, abbiamo un problema. Non riesco più a percepire la sua presenza. Oh, no. Oh, no, 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 no. Molto no. Eccolo laggiù. Sta facendo il tatticone. Si sta spostando in punta di piedi da un punto all'altro. Ma chiamatemi un secondo che mi curo perché mi ha fatto proprio male prima. Ah, posto. Pronto a ripartire. Lo vedo, lo vedo. Si esco a fare gli jumpscare, non è fatta. David. David, dove sei di bello? Dove sarai finito? Brutto bastardo, morici male. Muorici malissimo. Dai, dai che fatta, dai che fatta, Ellie. Ancortella l'ocore, ancortella l'ocore. Ah, un ho fatto malissimo. Oh, oh. Avete perso i sensi per davvero. E in tutto questo, Joel, dov'è? Ah, Joel, stavo proprio parlando di te. Ed è arrivata la cittadina di Silver Lake. Nel bel mezzo della tormenta. Allora, vediamo caso mai di tenere fuori anche l'arco. Si sa mai che riusciamo a farla in stealth? Assolutamente impossibile. Allora, teniamoci vicino ai bordi. Di solito i nemici non stanno presso i suddetti bordi. Pensavo di aver visto qualcosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Direi che stanno arrivando là. Poi un secondo che recupero un po' di risorse. Che intanto craftiamo cose. Joel, come siamo messi? Siamo messi tanto bene. Ah, mi manca sempre quel cocchio di scoccia. È assurdo. Oh, no. Devi venire proprio qua, romper i maroni. Ah, santo cielo. Devo cercare di sorprenderlo in qualche modo. Tipo così, va benissimo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Mi hai trovato. Ti merito una bella ricompensa e un po' di amore. Ti piace l'amore? Ecco, perché non se ne danno abbastanza. Ecco, vedi. Ha goduto. Sul finale c'è stato un leggiorissimo... Oh, sei colpito di fucile. Li prendo molto volentieri. Dicevo, c'è stato un leggiorissimissimo orgasmo. Salve, signori. Cosa fate qua fuori? Che ha il freddo e il gelo, porco cane. Che poi vi pigliate le frecce addosso. Ok, perfetto. Uh, ok. Direi che mi ha giusto un attimino visto il tizio. Oh, quasi non riesco ad intravederli nella tormenta. Se non fosse perludito... Oh, c'è il tizio là sopra. Eh, ma è difficile prenderlo. Vediamo un po'. Vediamo un po' se ce la faccio. Oh, ho sciottato alla grande. Ecco, adesso... Sanno proprio dove mi trovo. Signore, guardi che la intravedo. Oh, oh. C'è anche un cucino di secondo grado da qualche parte. Ma sta, ma fa una strage. Salve, signore. Scusi, mi presta la freccia. Grazie, molto gentile. Sono per il riciclaggio? Ok, c'è un altro tizio là sopra da qualche parte. Vediamo un po' se io non... Oh, lo pseudo intravedo, credo. Credo sia quella figura là su. Sì, ed è ancora vivo purtroppo per me. Ora è molto meno vivo. Purtroppo per lui. Ok, a posto? L'abbiamo risolta pacificamente? Beh, più o meno pacificamente. Insomma, il mio concetto di pace è molto soggettivo. Ah, ci sono rotte tutte le frecce. Oh, questa no, questa è ancora intera. Ok, faccio giusto una piccola sosta alla stazioncina di servizio. Vediamo un po' se siamo fortunati, che recuperiamo un altro po' di materiale. Perché... Ospè! Signore, mi ha fatto cagare in mano. Oh, ma il signore c'ha delle frecce! Scusi, eh. Tanto a lei non servono più, giusto? Molto gentile. Joel, se ne prendi anche più di una? In una volta sola, non m'offendo. Ah, non mi dite che potevamo passare dietro alla stazione di servizio ed evitarci tutto lo scontro? Ah, vabbè. Ma insomma, ogni tanto bisogna combattere. Mi piace che il cartello si muove mosso dal vento? Come ho detto, la cura per i dettagli di sto gioco è qualcosa di assurdo. Ok, Joel. E evitiamo di farci ammazzare nei limiti del possibile. Perché, come ho detto, la visibilità è il problema maggiore, purtroppo. Ed eccoci all'interno della città. Ed eccola giù gli abitanti. Qualcuno deve aver sentito i colpi d'arma da fuoco. Se riusciamo ad evitare di farci sgamare dei tizi... Se forse riesco ad arrivare da Ellie e a salvarla in tempo. Signore, faccia attenzione che poi mi scivola male sulla neve. Sì, vabbè. A visione periferica. E a te, Poppo, non sai manco di cosa ti tratti. Ticcio, Ticcio, devo far fuori tuo cugino? Se ti dai una mossa a morire? Grazie, molto gentile. Oh, altre sei munizioni per il fucile. Ma allora ditelo che mi amate. Ci sono un paio di tizi là davanti. Vediamo di ridurre la popolazione locale. Ori, uno. Il tizio non si è accorto di nulla, ma se ne accorgerà molto presto. E infatti se ne è accorto. Andiamo a cercare di fare anche a lui un bel bubussettete. Uh, l'ho bubussettato proprio a morte. Ok, perfetto. Sì, sì, sì. Siamo nella zona giusta. Vediamo se qualcuno droppa risorse. No, eh. La tirchiaggine di codesto luoco. Ah, a saperlo mi sarei risparmiato le frecce. Joel, entra qua e dovremmo essere al sicuro. Guarda quanta neve c'è addosso, ragazzo mio. Cosa abbiamo trovato di bello? Lo zainetto di Ellie! Perché c'è lo zaino di Ellie? Secondo te? Stiamo cercando di trovarla. Scusa, eh. Vediamo se c'è altro. C'è una lettera o un documento che parla. Ah, della quantità di carne che hanno portato dentro. 683 chili. Ebbè, stai poco a far chili con la carne umana. Mamma mia, qui ti calcolavano anche i chili. Ma... Porca il... Eeeh! Ok. Porca Cristo. Tofforo Colombo, l'uomo del nuovo mondo. Perfetto. Facciamo finta di nulla. Aioh! Io è qualche anno che non vado in macelleria? Ma vabbè, dettagli? Però... E... 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 La sensazione di giovani è cambiata considerevolmente. Allora, possiamo tornare là fuori. Passando da di qua. Allora... 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 Il macete di... Di David? Cerchiamo di avanzare in qualche modo. Eeeh... Deve avere una leggera concussione lei, poverina. Perché vai, vai. Ti sto premendo avanti come non ci fosse un domani. Perché lo sento sulla sinistra? Oh no. Ellie, devi darti una mossa. Se si risveglia e se lo prende prima lui... Aia! L'osterno mi serviva, grazie. No, no, no. Col cocchio! Ci starei a vivere? Perché hai un'ossessione con me? Ma sei uno sporco pervertito, dai. Ellie, vai. Ellie, vai. E prendilo come non ti pare. Au! Ma è una ragazzina, dai. Ma sei un verme schifoso. Ma che fai? No. No. Colpiscilo, colpiscilo. Dagli un pugno, dagli un morso. Prendilo. Prendilo. Prendilo, Ellie. Prendilo. Prendilo, porca di quel porca. Non sai neanche tu di quello... E che appace è lei. Vai. Ah, perfetto. L'hai colpito. Ok. Ellie, Ellie, Ellie. L'hai colpito. L'hai colpito molte volte. E molto, molto morto. Ok. Sei arrivato al momento giusto? E tutto ok? Sono io. Sono io. Sono io. Guardami, guardami. Cristo santo, la poverina è traumatizzata a morte. L'hai cercato di... E tutto ok? E tutto ok? Porca trota. Ha fatto la fine che si meritava quel bastardo. Anzi, in verità è morto anche troppo velocemente. Chifoso maledetto di David. Uh. Sì, ma questo è un trauma che ti resta a vita. È una cosa del genere, eh. Mamma mia. A posto? Sì, sì. Gli lasciamo anche il macete. David, è stato un piacere. Grazie dell'ospitalità. Ci vediamo il prossimo anno. E nel frattempo, primavera is coming. Pa-ra-pa-ra-pa-ra. Oh, perfetto. Quindi non ho più la neve che mi si ficca anche su per... Ci siano capiti? No, grazie di... Con i cervi ne abbiamo abbastanza. Ellie? Non rivocare i traumi del Vietnam. Ellie! Le si sono allungati i capelli? Mi hai sentito? No. Che? Guarda. Ospedale. Ah, siamo a Salt Lake City. Andiamo su. Ah, ce l'avete fatta allora. Cioè, ci hanno messo praticamente nove mesi a raggiungere Salt Lake City. Ho sentito che prezza. In giornate come questa, vorrei solo starmene seduto in veranda a suonare la chitarra. Eh, ma vedi che è una chitarra. La troviamo da qualche parte. Questa storia sarà finita. Ti insegnerò a suonarla. Già, penso proprio ti piacerebbe. Ellie, tutto bene? Ellie, ehi. Eh? Oh, certo. Aia. È traumatizzata profondamente. Nonostante sia passato un po' di tempo, devo dire che non si è ripresa. È comprensibile, eh? Cioè, c'ha 14 anni, ragazzi. E si è stato quasi trucidato a morte, magnato da cannibali, tutte cose. Oh, un'altra allegra famigliola. Perdonaci. Aia. Non deve essere andata molto bene neanche a loro. Allora, abbiamo un bel po' di... Oh, ok. Ora ho capito perché perdonaci. Devono essere stati probabilmente mozzicati. E si sono tolti la vita. Oh, no. Joel, come siamo messi a risorse? Bene. Siamo messi tanto, tanto bene. Ma possiamo anche aumentare, ad esempio, la salute massima a 140%. Che è cosa buona e tanto giusta. E purtroppo non riuscirò mai a sbloccare maestro alcuni coltelli. Ma vabbè. Non so quanti clicker incontreremo ancora lungo il percorso. Evitiamo di farci mozzicare nei limiti del possibile. Ellie, dai, vuoi fare un giro? Di volare. Ah, sì? Allora. Dai, racconta. Ero su un grosso aereo pieno di persone. E tutti urlavano perché stava precipitando. È un classico. Così sono andata verso la cabina di pilotaggio e ho aperto la porta e il pilota non c'era. Ho provato a usare i comandi ma... Ovviamente non avevo idea di come far volare un aereo. È facile. E subito prima dello schianto mi sono svegliata. Non sono mai stata su un aereo. Non è strano? Beh. Sai, i sogni sono sempre strani. Beh, tra i miei incubi più ricorrenti ci sono quelli scolastici che mi porto ancora dietro dai tempi del liceo. Come ad esempio in mutande. Non ho preparato... Mi sono preparato per la lezione. Non ho fatto i compiti. Ce n'è uno con l'inglese. Che non so... Non mi ricordo l'inglese. Io l'inglese lo so molto bene. E questa è una cosa paradossale. Ho incubi con i mezzi di trasporto. Non so perché salgo a bordo dei mezzi di trasporto e non ho il biglietto. Un'altra città? Un'altra zona di quarantena abbandonata. Ribadisco, questi sono quelli basilari semplici semplici. Non parliamo di quelli ovviamente a temi più violenti, ansiogeni. Come ad esempio sono nella vecchia casa dei miei. L'intera casa sta sprofondando lentamente e manisorabilmente nel fango. Le trombe d'aria mi hanno traumatizzato perché negli anni 90 ne è caduta una vicino a casa. È l'ospedale di cui ci aveva parlato la luce. Forza piccola. Dai, depressina. Forza, forza, forza. Una volta è tutta una bella contenta che non ti sei zittiva con le battute, le barzellette e tutte cose. Allora, possiamo passare per la stazione degli autobus. Mi sembra un buon punto in cui credo mai fare anche una bella sosta. Forse di qui tagliamo, no? Ehi là là. L'albero è cresciuto un sacco. Probabilmente era una piccola pianticina. Una ventina di anni fa. Allora, dobbiamo sicuramente passare dalla sopra. Vediamo un po' se hanno lasciato un po' di risorse. È lì, dai. Non so come tirarti sul morale. Normalmente ti comprerai un gelato, ma la vedo abbastanza difficile. Lucia. Abbiamo raggiunto la zona di quarantena. Volevo chiamarti, ma in questa città tutte le linee telefoniche sono inattive. Ci hanno detto che possono recapitare lettere tra le zone, anche se ci vorrà una settimana o due prima che tu possa riceverle. Stiamo bene. Hanna parla sempre di te, le manchi molto. Sono sorpreso dalla maturità e calma che sta mostrando in questa situazione folle. Mi sento come se fossi io quello troppo emotivo. Il più delle volte è lei a confortare me. L'abbiamo cresciuta bene. Spero che nella tua zona vada tutto bene. E spero davvero di sentire presto la tua voce. Con amore, Graham. Allora, non potevamo saperlo. Che non ci si sarebbe praticamente quasi più rivisti? Già, questo è poco. Ma sicuro? Sì, sì. E' chiaramente uno dei loro checkpoint. Immaginate adesso tutto il denaro che non ha più valore. Ti ci puoi accendere le sigarette o il fuoco la sera. I lingotti d'oro non hanno più nessun valore. Diamanti, gioielli. Ellie! Che succede? Ti racconta tutto. No, non stai bene. È solo che oggi sei più silenziosa del solito. Oh, scusa. No, non è... È tutto a posto. Lasciamola stare dalle i suoi tempi, santo cielo. Ciccio, dobbiamo trovare... Oh, pilloline! Dicevo... Mi sapevate che me ne fossi dimenticato, eh? Manco per il cocchio. Dicevo, dobbiamo trovare assolutamente un bel banco da lavoro. Guardali, guardali dove li avevano nascosti i rottami. Volevi? Potremmo usare quella scala. Ok, Ellie, dai, vieni. Ci siamo. Dai, l'abbiamo fatto otto miliardi di volte. Che succede? Ellie? Ellie. Ma per davvero? Mi è rovinato l'animazione. Il ritmo. Se ti vedesse Cusco, ti defenestrarà la velocità della luce. La scala. Dai. Giusto. È completamente fuori fase. Mi domando se sia per il trauma o perché ci stiamo avvicinando alla meta. Dai, forza, abbiamo un Marlene e le altre luci che ci aspettano a destinazione. Perchè Marlene nel frattempo ce l'abbia fatta. Probabilmente se Ellie fosse rimasta con lei, sarebbero arrivati anche prima. Nessuno sospettava che probabilmente le luci di Boston erano praticamente stati tutti trucidati. Occhio che mi prendi in faccia, con calma. Che è stato? Ellie? Oh mio Dio. Che succede? Oh, 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 oh. Ma porca... Mosse triggerata di colpo? Ellie? Dammi un secondo, dammi un secondo, Joel, sto facendo del mio meglio. Cos'è il cocchio ha visto? Cos'è? Un altro di quei cocchie di fumetti? Aio, giovine! Questo devi vederlo. Cos'è? Cosa è successo? Di che cavolo si tratta? Che ha visto? È pieno zeppo di furgoni della fedra? Io non vedo niente. Che è? Ragazzina parla? Oh, bello l'effetto dei vetri. Cosa? C'è qualcosa che si muove là fuori? Ci sono i dinosauri. Oh, aspetta un secondo. Ah, ma è una giraffa. Piccola stellina. Accidenti. Vabbè, sarà fuggita da qualche zoo, è anche comprensibile. Oh, ma guardala, che carina. Hai visto? È abnorme, non l'ho mai vista dal vivo, eh. Fun fact, il telone non è mai stato in uno zoo. Non spaventarla. Va bene, va bene. Ok, ok, mi sono lavato le ascelle l'anno mese scorso. È tutto ok. Vieni, vieni. Erbivorante mozzica. Vieni, dai. Ma guardala, quanto è bellina. Occhio, magari mangia i funghi, Ellie, fa attenzione. Tu sei di porcini, purtroppo. Che forza. Ma dai. Da che parte? No, non puoi cavalcare le giraffe, Ellie. Forza. Ah, ma ce ne sono tantissime. Muoviti, forza, andiamo. Sì, sì, arrivo. Qualcuno deve pur sempre controllare che non ci siano risorse in giro. È andata fuori di testa per le giraffe. Beh, è anche comprensibile, eh. Sarei anch'io tutto eccitato se in un mondo del genere trovassi degli animali che non provano a sbranarmi. Che tecnicamente non abbiamo avuto un grande rapporto con gli animali fino adesso. C'era solo il cane alla diga e nulla di più. Vabbè, la centrale idroelettrica. Guarda quanti. Che spettacolo. Beh, non penso abbiano troppi predatori in questo posto. Dovrebbe essere tutto relativamente sicuro. Oh, almeno sarà allegrata, mi consolo. Allora? È interessante come ti aspettavi. È i suoi alti e bassi. Ma... Il panorama non è male. Ecco, l'ultima volta che hai detto una cosa del genere, 20 minuti dopo è morta Tess. Quindi mi tocco le balle. Bel posto per davvero. Ok, sì, dobbiamo portarti in ospedale, ragazzina. Siamo praticamente dietro l'angolo. Siamo anche vicinissimi alle montagne. Non abbiamo sentito colpi d'arma da fuoco. Se le luci sono ancora vive in città, forse, forse, avranno riportato il controllo e la pace. Ed è di nuovo depressa, perfetto. Guardalo giù l'ospedale. Non siamo obbligati a farlo. Questo lo sai, vero? Abbiamo altre opzioni? Tornare da Tommy e... Farla finita con questa cazzo di storia. Dopo quello che abbiamo passato. È stata una bella avventura. Dopo tutto quello che ho fatto. Siamo cresciuti come persone. Non può essere tutto inutile. No, vabbè, la crescita interiore non è così inutile, santo cielo. È importante. Abbiamo vissuto esperienze che in questo mondo la maggior parte delle persone non vivono abbastanza a lungo per raccontare. E noi siamo ancora qui. Ascolta, so che hai buona intenzione. Ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo, andremo ovunque tu voglia. Ok? Beh, non me ne vado senza di te. Perciò muoviamoci e facciamola finita. Ah! Si sono legati tantissimo tra di loro. Che bella cosa. Ho trovato il bagno? Il bagno degli uomini. Maronne! Puzza di meno che un bagno moderno. Scusi, eh, signore. Lei resti lì? Eh, lì. Ho trovato un altro di quei fumetti. È rimasto a cagare molto lungo il tizio, a quanto pare. Vediamo se c'è anche il bagno delle donne. Qui qualcuno si è accampato. Chissà quanto tempo fa. Vuol dire, essendo passati vent'anni, è difficile quantificare effettivamente il tempo trascorso tra i vari eventi. Ok, ho consumato quel poco di scotch e abbiamo potenziato tantissimo la nostra accetta. Probabilmente sciotta con ogni suo singolo colpo. Ok. Ellie, se trovi un banco da lavoro, non m'offendo. Perché mi servirebbe proprio un casino. Ah, per di là non ci può andare. Ok, abbiamo raggiunto l'uscita, ma mi spiace, Ellie, le giraffe ormai sono andate. Puoi avere il car armato se vuoi. Oglia quanto è grosso. Che spettacolo! Questo posto rievoca ricordi. Che cosa? Successe dopo che cominciarono i casini. Ero in un centro di soccorso come questo. Ovunque guardassi vedevi... Vedevi famiglie a pezzi. Il mondo intero era andato sotto sopra in un batter d'occhio. Avevi già perso, Sarah. Sì, esatto. Non... Non riesco a immaginare cosa vuol dire perdere qualcuno che ami così tanto. Perdere tutto ciò che conosci. Mi spiace, Joel. Tutto ok, Ellie. Tutto ok? Weela! Questo Joel ha fatto dei passi avanti, eh? Stiamo parlando di una persona che non riusciva dopo vent'anni ad affrontare il lutto della figlia. Ora, non per sminuire il modo in cui le persone affrontano il lutto. È una questione... Pilloline! Che soggettiva c'è chi riesce effettivamente ad andare avanti nel giro magari di giorni, settimane, mesi. E c'è chi si porta il lutto dietro tutta la propria vita. Oh! Utensili di ultimo livello. Come ho detto, è un concetto soggettivo. Pertanto non si può giudicare il modo in cui una persona lo affronta basandosi solamente su se stessi. Sarebbe meglio sempre che la persona lo riuscisse ad affrontare in maniera naturale e spontanea in modo tale da poter vivere il resto della propria vita con maggiore serenità. Perché la morte, nonostante sia un concetto certo, ovvio e impossibile allo stato attuale da evitare. È qualcosa che comunque ci attanaglia, ci distrugge e ci logora dentro. Abbiamo trovato una mappa della zona? Sono indicati i percorsi di evacuazione, l'ospedale e le aree ormai prive di scorte. Avevano già ripulito, presumo, buona parte delle aree circostanti. Perfetto! Ok, abbiamo raccolto uno sfaccello di cose e... Buongiorrissimo! Ci siamo. Il banco da lavoro per papino. Ok, con gli utensili di quinto livello posso potenziare letteralmente qualunque cosa, come ad esempio il nostro amichevole fucile. Abbiamo 337 rottami, quindi vediamo di aumentare considerevolmente la capacità del caricatore. Così, come dicevo, non devo ricaricare l'arma ogni 5 secondi. E... Casomai ne aumento del 55% la velocità di ricarica. È inutile aumentare ancora... Un'altra volta il caricatore per un proiettile in più. Se lo ricarichiamo più velocemente, possiamo effettivamente renderla un'arma pressoché inarrestabile. Ah, ci ha messo la cosa lì, la cartuccera direttamente sopra. Ora, il nostro amichevole lanciafiamme. In caso incontrassimo degli infetti, è un'arma che ha un valore veramente inestimabile. Possiamo aumentarne la portata... O aumentare del 100% dei danni? Spero di avere abbastanza carburante perché non ne ho incontrato molto lungo il percorso. Se incontriamo qualche altro bloater, gli facciamo passare decisamente un brutto quarto d'ora. Siamo anche a aumentarne la portata in modo tale che il getto arrivi molto più distante. Non è una cosa stupida perché la parte sopra era pesantemente danneggiata. E così possiamo anche evitare che i nemici si avvicinino troppo, per quanto non appena vengono raggiunti dalle fiamme... Diciamo che tendono a non rompere le balle più di tanto. Ora, per quanto riguarda le pistole, la mia El Diablo è una bella bestiola, visto che è sciotta. Ma dobbiamo aumentare la capacità del caricatore perché per adesso è a singolo colpo. E ogni volta devi ricaricare se sei circondato dai tizi, non è proprio la cosa più comoda. Bravo, Joel. Vedete che adesso può portare fino a due colpi. Senti, massimizziamola fino a tre. Porco cane, però costa parecchio. Possiamo aumentare la velocità di fuoco. Ho proiettile perforante che perfora le corazze. Cacchio, posso prendere letteralmente in qualunque punto del corpo? Dobbiamo affrontare dei militari. Direi che è la scelta più adatta. Ok, guardate che sberla di arma che non è diventata. Peccato che non gli abbiamo cambiato il calcio che è rimasto molto, ma molto grezzo. Per il resto... Che dite, lo shorty? Il problema è che ho quasi finito i rottami. Senti, aumenta la capacità del caricatore. In modo tale da poter sparare più colpi. Non mi ha entusiasmato come arma, però voglio dire che è più pratico che prendere il nostro amico che vuole fucire. Ok, di ciò non abbiamo altri rottami, quindi vediamo di rimetterci in viaggio. Ok, possiamo uscire passando tranquillamente da quest'altra parte. Hai la brutta abitudine di rubare co... Oh no! Quella foto! Forse Joel adesso può affrontare il tutto? Ah, la piccola Sara, ma come? Non ce la faccio, i ricordi riemergono, i traumi. Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie. Oh porco, cane signore mi ha fatto cagare in mano. Ok, ha veramente affrontato i suoi demoni del passato? O quantomeno ha imparato a conviverci? Ok, ci siamo, dai, 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 che non manca molto. Eccolo laggiù l'ospedale. Dobbiamo passare per forza dal sottopassaggio, dal tunnel. I tunnel non mi piacciono, però... Beh, i militari non sono dovunque. Cioè, voglio dire, non possono essere a comandare a bacchetta ogni singolo avamposo, anche perché fino adesso la situazione era messa molto peggio di quanto uno si sarebbe mai aspettato. Oh oh. No, il mio stesso senso da videogiocatore si è triggerato. Quindi, occhi aperti. Oh, funghi porcini. Porca di quelli per porca. Quanti funghi porcini? No, quello è un bloater. Ma i bloater, non l'ho capito, sono ciechi? O ci vedono molto bene? Allora, all'occurrenza possiamo rifugiarci sopra il camper. Riusciamo ad evitare lo scontro? Porca di quelli per... Porca buongiorno, signore. Aspetta, no, la luce non la vedono. Allora, proviamo, come ho detto, a ucciderne quanti più possibili. Senta di stare troppi sospetti. Perfetto, sciottiamoli. Alla velocità della luce. Troppi clicker qua. Joel? Quante freccine ti restano? Poche. Decisamente troppo poche. Aspetta, aspetta, rintanati qua sopra. Allora, domanda da un milione di dollari. Se sciottiamo il clicker... Non l'abbiamo sciottato. Non l'abbiamo sciottato. Allarme. Non abbiamo sciottato il clicker. Porca di quelli per porca. Ma nessuno si è accorto di nulla. Mi sono fatto prendere dal panico. Porca di quella iperporca. Ok. È che dovrei prenderli in testa, lo so, ma con la mia mira della serie ciao negente. Il clicker poi la muovo in continuazione con la cocca di testa. Joel, tienimi fuori a sto punto il lanciafiamme. Lanciafiamme, visto che l'abbiamo potenziato, contro i bloater e l'arma perfetta. Eh, l'ho vista, ciccia. Porta pazienza. Cerchiamo di ripulire intanto un lato. E vediamo se possiamo passare e raggiungere l'uscita da qualche parte. Buona, buona, fatti, buona. Ok, ci possiamo ritarrare qua dentro? Oh. Dici? Lo so, muoviamoci. Me ne ero accorto? E Joel, raccogli qualunque cosa? Ok, se ci individuano qua dentro, siamo morti. Siamo tutti molto, molto morti. Tienimi fuori il fucile. Allora, voglio fare una prova. Ma che vada... Si riavvia da checkpoint. E gli shotto uno a uno. A colpi di coltello. No, va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Non mozzichi. Non mozzichi. Non sono un porcino come lei, lo so, ma ci possiamo amare in ogni caso. Oh, c'aveva anche dei colpi per il revolver. Che signore gentile. Forse possiamo tagliare dall'interno? Piano, Joel. Non far rumore che i tizi sono molto permalosi. Bravissimo. Cronk. Magari allontaniamoci. Ah, tutto bene. Sono in pseudo letargo. Sono di stand-by, diciamo. Non ho capito perché. Sono in attesa che arrivi una minaccia da attaccare. 40 colpi per il lanciafiamma. Ellie, 40 colpi per il lanciafiamma e lì c'è una via d'uscita. Quindi evitiamo di farci individuare. Resta solo l'ultimo tizio. Ellie, ti ricordo che è un coltello? Se ne vuoi coltellare qualcuno? A me va benissimo, eh. Oddio, non ne avevo mai visti chi li da vicino, i volti. Ok. E ha una munizione per lo shorty. Perfetto. Fatemi ricaricare quel cocchio di lanciafiamma e quanto prima. Vediamo un po' dove spuntiamo di bello. Buongiorno. Ok, abbiamo percorso un po' di strada. Della serie è meglio che nulla. Riducendo considero il metterischi. Stanno ancora dando materiali per il crafting. Ottimo. E sembra che non ci sia molto altro. Ellie, mi hai fatto cagare in mano? Sì. Giusto un attimino. Ok, siamo dall'altra parte dell'autobus. Continuiamo ad avanzare. Che, che, che? Che era sto respiro affannoso? Ma hai fatto cagare? Eh, vabbè. Ma allora ditelo che mi odiate. Come, come li supero tutti sti cosi? Tutti sti infetti? Sì, ho un bel po' di lanciafiamma e tutte cose. Ah, e c'è anche un tizio qua davanti. Perfetto, quindi facciamo rumore appena scendiamo in acqua. Ok, tattica numero due. Provo a passare dall'altra parte. Sperando per l'appunto che i bloater siano ciechi. Come ho detto, è una teoria da verificare? Assolutamente sì, perché se si allarmano arriveranno anche i tizi da dietro. Presumo. Sento, sento clicker. Andate a clickerare da un'altra parte che mi sto a cacca. A spruzzo. Aspetta, aspetta, aspetta. Sari su camion. E, oh, buongiorno. Abbiamo trovato di bello qui sopra un manualetto che aumenta la gittata degli ordini impiazzati. Oh, le bombe hanno un'area d'azione ora doppia. Non sarebbe poi una cattiva idea. Allora, dobbiamo andare là in qualche modo. Oddio, forse li evitiamo, gente, forse li evitiamo. Ok, Joel, scendi con molta calma. Perfetto. Le evitiamo di far rumore. Magari posso tirare la loro attenzione. Tutti mattoni. Guarda quanti mattoni. Piano. No. Sono cechi, ragazzi. Sono cechi. Non ci chiedono mai nella vita. Sono tanto, tanto cechi. No, vabbè, ragazzi. Meraviglioso. Piano. Piano. Ok, fatta. Ellie è fatta. Se non facciamo casino all'ultimo. Ok, vai, vai su Ellie. Vai su Ellie. Sali lassù e butta giù la cassa. Buttala giù con calma. Non so come evita che faccia rumore quando cade. Oddio, ragazzi. Ragazzi. Sì. Qua ci siamo evitati il big scontrone. Come là? Ok, ok. Ho abbastanza tempo. Ho abbastanza tempo. Non è un problema? Piano. Piano. Ok, l'hanno sentita. L'hanno sentita giusto un attimino? Salve, signori. Vi ho fregato alla grande. Alla facciaccia vostra. Deh, no. Non tirare le spore. Joel, butta di sotto. A posto, a posto, a posto, a posto. Perché se ce lo teniamo abbastanza. Non credo riesco. Dovrebbero despawnare. Yeah. Incredibile, ma vero. Ellie. Occhio non finire in acqua. Abbiamo risparmiato una marea di risorse. Sì, perfetto. Attenzione. Quell'acqua sembra profonda. Ci sono anche un po' di pesci? Sarebbe? Puoi insegnarmi a nuotare? D'accordo. Non è la peggiore delle idee, ciccio. Allora, possiamo passare da sotto? Perché sopra ho visto che non si riusciva a salire. Joel. Rapiderrimo. E... Ok, vorrei evitare di morire affogato? Sono dall'altra parte. Ok. Ora fai spendere la scala. D'accordo. Che scala? Ah, c'è un furgone di pompieri, in effetti. Ah, con tanto di scala sopra. Ottimo. Sì, però con tutta quest'acqua, Ellie, mi stanno davvero venendo di reumatismi? Non sono più un giovane rampollo come un tempo. Dove la vuoi? Ho avuto un triangolino. Dove puoi andare? Triangolo. Ecco qua. Una scala consegnata per la signorina Ellie. Sono il suo Uber consegnatore di scale. Vicino al bordo. Di è più bassa. Ok, a posto. Anche perché qua è crollato tutto, ovviamente. Ma possiamo tranquillamente passare sul marciapiede. Oh, che faticaccia. Allora, ovviamente porta bloccata perché... E dai, non ti lamentare. Ah, sì, che tu sei alto a un metro e dieci. Mi ero dimenticato. Porco cane, quasi non lo vedevo. Mi sono stracagato in mano. Allora, datemi un secondo che non lo uso quasi mai. Il nostro amichevole fucilozzo. E lui è un clicker? Direi che il signore non aggredita più di tanto. Datti una calmata giovine. Era nascosto dietro le scatole il fetentone. Ma dimmi te. Ok, riprendi il fucile Joel. Ma è bloccata la porta? Ah, sì, c'è una sbarra di metallo. Ellie, ti facciamo passare da sopra? Va bene. Dammi il piede. Ed Ellie si staccò il piede. Non è quello che intendevo. Se l'avessi mandata dentro rischiava di farti sbarnare da un clicker. Morti a due metri dall'ospedale, dalla meta. Figura di merda con Marlene. Ah, a posto. Ellie, e la tua versione PS3 qua si buggava? Tu ce la fai ad aprire la porta senza buggarti? Oh, che bello. Ti hanno programmato meglio. Per... E anche tanto. Fetto! Ok, grazie. Un bel tada. Un voilà. Ciccacchia, ciccacchia, niente. Depressione over 9000, sti giovani, santo cielo, che non vogliono mai andare in ospedale. Ok, vediamo cos'altro c'è. Oh, lo scotch. È stata la risorsa più difficile da trovare. Avrei pensato l'alcol per i medici, te vi ho dicendo. Oh, un banco per la modifica delle armi. Yey. Intanto abbiamo sbloccato anche trofei. Probabilmente perché ho utilizzato tutti i banchi da lavoro presenti nel gioco. Allora, arco. Ti possiamo potenziare aumentando la gittata dell'arma. Perché è stato un problema effettivamente sparare molte frecce. Non l'avevo potenziato all'inizio, perché avevano modificato il sistema di tiro che poi ho scoperto come rimettere con la mira che ti fa vedere dove arrivano le frecce. Che fu qualcosa che cambiarono in The Last of Us 2, se ricordo bene. E no, non piacqua a nessuno, porco cane. Ok, Ellie. Aspetta un secondo che do un'occhiata se troviamo qualche altra risorsa. Non mi dire che... Ovviamente la porta è chiusa. Ovviamente. Vuoi il mio ultimo coltello, eh? Cucati il mio ultimo coltello. Ah, santo cielo. Aspetta, dimmi, non possiamo craftare altri? Perché stanno diventando una specie in via di estinzione i coltelli. Ragazzi, abbiamo l'inventario che... Non dico che è pieno? Ma qua... Ma quasi, ho le pilloline, scusa, eh. Sono rimasto a bocca aperta quando l'ho vista. Oh, lo scotch! Grazie. Grazie, gioco, che mi vuoi bene. E ascolti le preghiere del telone. Ok, lo zucchero non ci serve. Alcol siamo al massimo. E qui abbiamo... Adesso mi dai rottami e munizioni per il fucile. Bene. Potrei aumentare la gittata, ma a sto punto velocizziamo la ricarica. Perfetto, così passiamo da una freccia all'altra più rapidamente. Ma sta facendo di quelle modifiche assurdamente realistiche. È qualcosa di incredibile. E tanto che ci siamo con gli ultimissimi rottami. Ma allora, ci sta. Ottimo. Aumentiamo la velocità di tiro, così è più facile scoccare la freccia alla massima potenza. E ole! Vabbè, in tutto questo non hai mai trovato un bell'arco composito, Joel? Ci sarà stato ancora qualche negozio di armi che non hanno svaliggiato? Sono in pochi che vanno in giro con l'arco. Ok, Ellie, scusa l'attesa, ma... Sì, avevo un po' di modifiche da fare, per quanto mi sono appena accorto. Che non abbiamo praticamente più frecce. Vabbè, non è un grande problema, forse li troveremo in giro. Sì! Ospedale St. Mary, ci siamo? Eh, ma siamo un po' sotto terra. Allora, dobbiamo arrivare dall'altra parte. E... Possiamo stare da qua sopra. Ellie, se ti butto qui, gioco, dice no. Quindi, che faccio? Scendi in acqua? I pesci non approvano. Brava, Ellie, tu rimani lì a deprimerti. Che cosa buona e tanto giusta! Un piede? Ah, no, è solo uno scarpone. Un secondo mi ero preoccupato. Ma non sono risorse utilizzabili. Ecco, questo deve essere il proprietario dello scarpone, molto probabilmente. Joel, la mia sull'alto. E poi io sono finito. E poi immaginate la puzza che c'hai addosso dopo aver nuotato in acque stantie e putride. Non dico altro. Allora, possiamo andare qua sopra e tutto questo per... Ah, raggiungere una zona sopraelevata. Se siamo fortunati, forse troviamo una scala o qualcos'altro che ci aiuterà a raggiungere la zona successiva. Vai, Joel. Per fortuna che la torsio in sto gioco è infinita. Guarda che davvero ci mettevo meno tempo a insegnarti a nuotare, Ellie. Non dico altro. Perché c'era un passaggio qua sopra? Ah, non l'ho capito, bizzarro. Ellie, se non la smetti di deprimerti, giuro che ti faccio cadere. Allora, aspetta che la spostiamo direttamente lì. Ok. E tutto questo per cosa? Ah, c'è una scaletta d'emergenza. Quelle che puoi attivare solamente dalla parte superiore. Vai, Ellie. Dimmi come teniamo ancora. Funziona molto bene. Perfetto. Ok, signori, siamo arrivati a destinazione. Tutto calcolato. È una di quelle scale che puoi usare anche orizzontalmente. Vedete che è fatta in maniera particolare. Quanto non l'ho mai capito come tu faccia incastrare bene il piede? Perché mi sa di un'instabilità veramente incredibile. Quindi la dobbiamo utilizzare, come dicevo, come piattaformina. Per... Ah, per passare là. Ellie, per la prossima avventura ricordami di portare via un cocchio di rampino. Cacchio, lo lanci dovunque e poi devi scalare. E ci avrebbe semplificato la vita tantissimo. E all'occorrenza ci puoi anche strangolare qualcuno. Che coda buona e tanto giusta. A posto. Questo lo possiamo mettere qui. Stendo attenzione a non volare di sotto. Ti prego dimmi che non ti bagga. Olè! Ah, ho capito. Bella idea. MacGyver, spostati popola cifra. Hai vista? Impara tutti i trucchi, giovine. Un giorno ti potrebbero servire. Ah, sono troppo vecchio per questi viaggi in famiglia. Sentivo rumore di acqua. Oh, ecco perché sentivo rumore di acqua. Vado davanti io. Tu seguimi. Ok, dietro di te. Ah no, Joel. Questo saltino era un po' corto. Ah, e non c'era neanche bisogno di farlo. Un salto in più! Ok. Casino. E vabbè. O c'è stata tipo una pioggia torrenziale. Va che roba. Ok, Joel. Corri. E olio cuore. Finiamo in acqua. La corrente ci trascinerà via. Questo è poco, ma sicuro. E l'ultima volta che siamo finiti in acqua, abbiamo preso una brutta commozione cerebrale. A posto? Ok. Dai, salta. Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Ma sì, se fai e prendi una ricorsa non serve neanche. Visto? Visto. Ce la facevi da sola. Scendiamo da questa a fare. Non è molto convinta, poverina. Dai, dai, dai. Che ce l'abbiamo così fatta. Sia sotto all'ospedale. Se non spunta un'armata di clicker all'improvviso, siamo praticamente a posto. Oh! Bonnie! No. No. Non muoverti. Corri, corri, Joel. Corri, Joel. Corri, Joel. Corri, vai, 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 vai. Oh! Eh, ma che sfiga! Dammi la mano! Dammi la mano! Dammi la mano, Ellie! E vabbè, ma che cocchio di sfiga! Porca di quella! Joel! Joel! Affera qualcuno, eh? Perfetto. Ok, torna fuori. Torna fuori che si è stato riempiando tutto d'acqua. Coccane! Ci sono... Ci sono... Oh! E vabbè! Allora ditelo che mi uliate! Ah! Che zuccata che ho tirato! Sono fatto malissimo! Ellie, che ci fai qua? Ma sei scema! Dai, tira, 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 Joel. Dai che si apre! Dai che si apre! Tira, 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 tira! Alla c'è! Non si apre! Ah! Lo sono preso in testa, mi sono fatto malissimo! Ci sono! Ci sono! No, 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 no! Vabbè! Ellie, dammi la mano! Dammi la mano! Rimacca! No, che cadi in acqua! No, che cadi in acqua così! Porco! L'ho vista! L'ho vista! È stata trascinata dalla corrente, Joel? Joel, corri! Peraltro, ragazzo mio, tratteni il fiato troppo... Poco! Ah! Eccola là! Eccola là! No! Non fatemela schiattare a tre secondi dall'arrivo che vi picchio male! Ellie? Ellie va tutto bene? Ellie va tutto bene? Prendila! Prendila! Però niente ha sbattuto la testa da qualche parte! Ci siamo? Ci siamo? Vai, Joel! A posto! Va tutto bene? Ellie è imprevisto, si è accorsa di non aver preso Ellie! Ok! Piegala di lato, devi far uscire l'acqua dei polmoni? O gli fai la... 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 Massaggio lì, come cavolo si chiama? La CPR? Posso dire in inglese? Oh, oh! Non respira! Acqua nei polmoni! Joel? Due sberloni come li tirava la nonna? Dai! Dai! Hai tre minuti di tempo? Mani in alto! No! Chi è? Signore, le pare il caso? Metti le mani in alto, cazzo! Dai! Andiamo! Ma che co... Ma siete fuori di testa! Completamente fuori di testa! Ok? Joel, controlla di avere ancora il pipino che non ti abbiano amputato parti? Benvenuto tra le luci! Ma fa fan club, Marlene! Erano uomini tuoi! Non sapevano chi fossi! Marlene? Sta bene! L'hanno rianimata! Oh! Meno male! Ok! Siete arrivati fin qui! E non potete farmi prendersi spaventi! Come avete fatto? Camminando! E tirando porchi! Ho lottato come un drago per arrivare! Forse era destino! Eh, non datemi una mano, eh ragazzi! Mi raccomando! Ho perso molti uomini venendo qui! Ho perso praticamente tutto! Ma poi spunti tu e li troviamo giusto in tempo per salvarla! La vita ha un curioso senso dell'umorismo! Forse era davvero destino! Sì, come abbiamo visto le luci si sono quasi estinte purtroppo! Portami da Ellie! Non devi più preoccuparti di lei! Ci pensiamo noi! Invece sì! Fammela vedere, per favore! La ragazzina, meglio specificare! Era un po' ambigua! Non puoi! È quasi pronta per l'intervento! Che fretta c'era! Vuoi dire quale intervento? I dottori mi hanno detto che il cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato! Per questo è immune! Una volta rimosso saranno in grado di usarlo per creare un vaccino! Un vaccino! Sì, lo so, è un'ottima notizia! Sì, lo so, è un'ottima notizia! Non riesci su tutto il cervello! Oh no! Sì, tutto! No! Ma siete scemi! Trova qualcun altro! Non c'è nessun altro! Senti, adesso tu mi porti da... Oh, un pezzo di erba! Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso, non è niente in confronto a ciò che è passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. Hai fatto un ottimo lavoro! Perché non si tratta di me! E nemmeno di lei! È che non c'è altra scelta! C'è sempre un'altra scelta! E questo mondo, onestamente, si merita di essere salvato? Sì, ci sono tante persone buone! Ma la malvagità si è diffusa a macchia d'olio ormai. Sì, è una scusa per giustificare la morte della ragazzina. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. È un piacere averti dato una mano, Marlene! Adesso c'è morta per farti questo piccolo piacere, eh. Cinque minuti dopo che l'hai lasciata andare, ma vabbè, dettagli. Porco cane. Ingrati bastardi. Alzati, ho detto. Neanche le luci si meritano di vivere, schifosi. Joel, dobbiamo trovare un modo per recuperare la ragazzina? Questi non sono fra i soldati più furbi al mondo. Muoviti. Altrimenti non avremmo trovato così tanti cadaveri lungo la strada. Ho detto muoviti. Aio, calmino! Dammi una scusa. No, ti dò una coltellata sulle gengive. Da che parte? Sì, sì, è il solito soldato gradasso e vi dicendo. Ok, siamo all'interno dell'ospedale. Il mio equipaggiamento è tutto qui. Perfetto. Che cazzo fai? Cammina. Ho detto cazzo. Oh! Bravo Joel! Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Oh! Porco che ne ho sparato sul pipino! E daje! All'ultimo piano. In fondo. A posto. Forse sopravviverai. Come l'ho detto, non sopravviverai. Sono abbastato sicuro che sia molto morto. Morto. Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Siamo sempre a 50 minuti, signori. Non è che... Ok, lo ammetto, ho un brutto tempismo. Ma con il prossimo le avventure di Joel e Ellie giungeranno a termine. Ma tranquilli che c'è anche il DLC che effettivamente è un prequel. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi apriamo il cervello assieme ad Ellie. E noi ci vedremo in un prossimo video.